Emiliana Biliardi dal 1980 ogni tipo di servizio inerente al mondo del biliardo La ditta Emiliana Biliardi fornisce servizi riguardanti il mondo del biliardo dal birillo al lampadario è specializzata nel ripristino e restauro di biliardi antichi e vanta anche varie collaborazioni con aziende a livello nazionale e internazionale come la Mari di Siena Oltre alla vendita di calci balina, ping pong, biliardi nuovi, usati e accessori effettua cambiopanni, montaggi, smontaggi, ripristino, mantenimento del biliardo e allestimento di sale ad esso dedicate